Ragazzi è appena finita la partita tra Sampdoria e Napoli finita con il risultato di 4 a 2 per il Napoli e sono molto contento dopo questa vittoria, non certamente dopo la prestazione però per il risultato non posso esser che contento perché la terza vittoria consecutiva significa fiducia, fiducia e ancora fiducia perché questa vittoria è fiducia per me perché mi fido di questo Napoli che può andare avanti e certamente i giocatori avranno fiducia nei loro mezzi. Perché vincere aiuta a vincere e aiuta anche a convincere, dà fiducia, dà stimolo, non solo migliora dal punto di vista tecnico, questo è inevitabile, però migliora anche dal punto di vista psicologico, della mentalità, perciò le vittorie sono importanti. Di questo Napoli mi fido, anche se in questa partita ci sono stati degli errori veramente macroscopici che vanno assolutamente rivisti, non solo errori tecnici perché gli errori tecnici ci stanno sempre, ma errori mentali. Perché non è possibile che il Napoli, dopo 30 minuti giocati bene, perché il Napoli per 30 minuti, fino al gol di Guagliarella, ha giocato una partita perfetta. Pressing, gioco veloce, in verticale, scambi, sto facendo un climax, non sto argomentando, però con il climax comunque cerco di far capire come ha giocato il Napoli. Con tutti questi aggettivi, tutti questi sostantivi che descrivono quei 30 minuti fantastici del Napoli. Diciamo che era pericoloso, infatti i due gol li ho trovati abbastanza presto, il primo su Milik, che fa un bel colpo di testa su un cross di Zianischi. E il secondo gol di Elmas, che per gioia personale trova il suo primo gol in campionato, su assist di testa di Di Lorenzo. Comunque ero contento con i due gol del Napoli. Ho pensato a voi, il Napoli se fa un altro gol, se fa il terzo, la schiude, cioè la sblocca questa partita. Invece no, il Napoli dopo il gol di Quagliarella, che applauso il Quagliarella, che si fa un gol della Madonna, e mannaggia, c'è una panchina al fantacalcio. Speriamo che gli abbassino un voto a mano alla San Milik, così posso vincere, ma temo che pareggio. Metto Quagliarella e il capo in panchina, mannaggia, solo fui. Mannaggia. E Quagliarella con solo contro il Napoli si vende i gol bellissimi, solo contro il Napoli. L'anno scorso si vende il gol di Tacco al volo, ma quella partita fu da dimenticare. Adesso si è fatto un gol pure bello. Quello dell'anno scorso era più difficile, ma quest'anno pure pareggio bello, perché era un bel gol elegante. Ha avuto tutto il tempo per posizionarsi, smarcarsi, fare una bella conclusione. Anche se lì sai, poteva fare qualcosa di più, perché evidentemente non l'ha proprio visto. Meretto non poteva fare nulla sul gol di Quagliarella. Però dopo il gol di Quagliarella appunto la Sampa si è svegliata. Si è svegliata, però è stato anche il Napoli che, di come so dire, è come se avesse già la testa per il secondo tempo. È come se avesse già pensato di aver vinto. Era presuntuoso, arrogante. Cioè, adaggiava sugli allori. Si arrambigava sugli specchi. Ma invece ha lasciato fare tutto alla Samp. E di fatto la Samp è stata pericolosa. Infatti dal trentesimo in poi la Samp si è svegliata. In partore con Torsby, con Quagliarella, Caramir e Zgabbiadini, che hanno giocato una bella partita loro. Il secondo tempo, infatti, nei primi 70-65 minuti è stato solo Samp. Il Napoli è sparito, è sparito. È sparito proprio, soprattutto con Manolas. Isai e Marorui che erano in netta difficoltà, specialmente Marorui e Isai. Ne ne capite più niente nel secondo tempo. Sebbene Marorui ha giocato leggermente meglio rispetto all'albanese. Ma Manolas è stato davvero il peggiore. Davvero, Manolas ha giocato una merda. Insigne non ha giocato malissimo, ma non è stata la sua miglior partita dell'anno. Callecon pure. Mentre Milik ha giocato bene, è stato pericoloso. Ha giocato una buona partita a Milik. Rispetto alle ultime partite, Milik si sta avvedendo. Il centrocampo ha giocato bene. Zienischi. Zienischi si forse è uno dei migliori in campo. Tanto per l'assist, ma comunque è stato quello che ha creato sempre occasioni. Elmas. Però ha giocato bene, non il migliori in campo, ma comunque ha giocato una buona partita. E anche Lobotka. Non capisco perché Gattuso l'ha fatto togliere subito. Quando secondo me Lobotka meritava qualche altro minuto in più. Però l'ingresso di Demme è stato azzeccato. Cioè per Gattuso ha azzeccato i cambi. Perché ha fatto entrare Demme che ha seguito il 3-2. Ha sbloccato la partita. E Mertens che l'ha chiusa. Con il 4-2 che si inventa un gol. Ho porto a vuota. Non semplice, perché comunque segnato con la distanza non è mai facile. Però con Odero che esce male. E Mertens tutto solo. Cioè poteva fare solo quello. Anche se non era un gol semplice. Perché io l'avrei sbagliato sicuramente con Musungu Scars. Sono contento per la vittoria. Infatti non mi sto sfogando. Anzi sono contento. Voglio analizzare la partita perché c'è molto da analizzare. Però. Oltre alla partita voglio analizzare anche cosa degli episodi. Perché sono anche quelli a decidere la partita. E vanno analizzati. Perché? Perché è stato un gol annullato alla Samp. Un gol annullato alla Samp. Io non so dire se è regolare o no. Cioè è da nullare. Perché io ancora non ho capito il regolamento. Cioè non capisco come si deve interpretare il regolamento. Non ci sto capendo più un cazzo. Perché. Non so se è quello di Gabbiadini. Sì è tocca col braccio. Lo tocca col braccio. Ovviamente. Cioè solo Bochelle e Stevie Wonder. Non riuscirebbero a vedere. Con tutto il rispetto. Hanno questi artisti. Però. Solo loro non. Non avrebbero detto che non era braccio. Quando invece è braccio. Questo penso che nessuno lo neghi. Sono un idiota. Ma. Ma non ho capito se il tocco del braccio. Si è attaccato al corpo. Ma non ho capito se vale. Anche. Allontano dall'aereo. Sono in area di rigore. Non ho capito a sta cosa. Perché se è così il gol andava annullato. Ci sta la decisione dell'arbitro. Cioè andava. Il gol andava segnato. Non doveva essere annullato. Perché Gabbiadini era attaccato al corpo. Se è così. Se invece. Non c'entra nulla. L'azione. Comunque si doveva proseguire. Il gol di Gaston Ramirez. Doveva essere valido. Cioè non ho capito a sta cosa. Secondo me. Il regolamento non è chiaro. Gli arbitri non ti fanno capire niente. Già gli arbitri non motivano le sentenze. Le sentenze. Le decisioni. Manca fosse uno giudice. Comunque gli arbitri devono sempre motivare le decisioni. Perché gli arbitri che prendono. Queste decisioni arbitrarie. Tiranniche. Senza nemmeno motivare le decisioni. Una cosa che mi fa incazzare. Perché l'arbitre deve essere imparziale. Ma deve anche esporre le sue decisioni. Le sue idee. E anche deve motivarle. Non può prendere decisioni. A custiare con le cazze. E farla franca. Dalle critiche. Non ho capito se quello è da annullare o da non annullare. Cioè non ho capito niente. Non ho capito nulla. Poi. Il rigore della Samp ci sta. Io. Il rigore della Samp ci sta assolutamente. Perché quello di Manolassa è un intervento killer. Cioè. Perché il killer è un intervento bruttissimo. Perché praticamente lo. Lo prende a Quagliarella. E l'ha pure fatto. E si è fatto pure male. Manolassa ha fatto un intervento bruttissimo. Manolassa. E se lo grazie all'arbitro. Perché non è stato ammonito. Prima su Quagliarella. Per il rigore del 2 a 2. E poi su Linetti. Io l'ho dato il giallo a Linetti. Quando Manolassa è buttato su un colpa a Linetti. Praticamente. Poi in altri episodi come è piaciuto l'arbitro. L'arbitro è scandaloso. L'abbiamo vinto. Sì mi dovrei stare zitto. Però. Io voglio mettermi nei panni anche della Sampdoria. In generale. Che l'arbitro ha fatto schifo. Cioè io parlo a nomi di tutti. Che l'arbitro ha sbagliato in certe decisioni. Perché. Il rigore di Quagliarella ci sta. L'ha fatto bene. Sul. Sul. Sul Grono da Ramirez. Forse gliel'avrei dato. Forse. Mentre sulla simulazione di Politano. Dai. Ma non è simulazione quella. Quella non è la simulazione. Perché Politano. Non cade lui. È Colle che gli tocca il ginocchio. E gli fa il fallo. Il ginocchio. Gli pare il ginocchio di Colle. Non mi ricordo. Comunque Colle lo tocca. È fallo. Io ho visto il replay. È fallo. Cioè l'abbiamo dato simulazione a Politano. Per me quello era. Rigoro. Non mi ricordo se l'aria è dentro l'aria. Comunque l'ho visto. Soltanto due volte. Non mi ricordo. Stavo pensando ad altro. Stavo pensando a godere. Però comunque era fallo. Almeno quello lo posso dire con chiarezza. È fallo. Poi il resto è una bella prestazione. Ci portiamo a 30 punti. Almeno due dal stesso posto. Io l'ho detto. Mo' che stiamo andando bene. Almeno speriamo quelle roba lì. Almeno incassiamo un po' di soldi. Un po' di prestigio. Fare una stagione senza. Fare una stagione senza coppa. Non è bello. Almeno rendiamo il campionato diciamo interessante. Lottando fino alla fine per centrare un posto in Europa. Lì. C'è Mosley con Samarone. Però comunque siamo lontani. Però mai dire mai. Questo Napoli dà fiducia. Comunque migliori in campo secondo me Milik. Milik tanto per il gol. Zieninski. Eddi Lorenzo. E dico anche Edemme. Hanno giocato bene tutti questi quattro. Proprio i migliori. Invece i peggiori sono i Manolas. Manolas è veramente il peggiore. E Callegone che non è stato la sua miglior prestazione. Così come i sai. Non sono stati i migliori. Della Sampo mi è piaciuto Quagliarella. Gabbiadini. E Ramirez. Forse Torsby. Mentre che ha giocato malissimo dire Collei. Che non ha fatto niente. Collei. E. Basta. Cioè non viene di Mauderon. È stata la sua. Purtroppo per i gol. Angudelli non è mai fatto impazzire. E niente. Uso finisce qua. Ce ne andiamo domenica. Per il post partita contro il Lecce. E niente. Serra porra.